Io sono dell'idea che un certo percorso di innovazione andrebbe seguito. Io penso che negli ultimi anni, non mi riferisco nemmeno a questa attuale dirigenza, la RAI è un animale strano da comprendere, è un'entità molto grande. Un dinosauro anche per muoversi. Sì, da un punto di vista della mole, perché ti posso garantire che è pieno di eccellenze che poi fanno anche fatica tante volte a farsi conoscere, perché la RAI è anche molto estesa, molto grande. Io lavoro alla Camera e siamo 1.400 dipendenti ed è una struttura molto complessa. Per la RAI devi moltiplicare almeno per 10, quindi capisci la complessità. A volte si fa l'errore di semplificare troppo, vado in RAI, spacco tutto, cambio tutto, non funziona così. Tu devi prima capire l'azienda, conoscere le persone che vi lavorano. Io sono convinto che con un po' di tempo in più i CDA della RAI durano troppo poco, in tre anni non fai niente. Forse perché è legato anche alla politica. E quello è un errore, è uno dei classici errori della politica. Pensare che tutto nasca e muoia con la politica. Nel frattempo i tre anni che stanno, gli attuali, stanno già finendo e non hai il tempo di fare nulla. Poi fai degli errori, fai anche delle buone cose, però onestamente io credo che oggettivamente non hai il tempo. Le rivoluzioni hanno bisogno di tempo. Se cambiamo sempre i direttori generali, la rivoluzione chi la fa?